La flotta degli Stati Uniti varra la sua più grande nave portaerei, madrina la signora Roosevelt. La nuova unità che pesa 9.900 tonnellate, costa 20 milioni di dollari, potrà trasportare 150 aeroplani e raggiungere una velocità di 35 miglia orarie, sarà pronta ad entrare in servizio fra un anno. La flotta degli Stati Uniti